le dure smentite del nostro capitano il quale peraltro non mirava che a dissipare la nebbia d'antichi pregiudizi a pro del nostro equipaggio al pari di tutti gli altri fuori di misura ignorante e credulone dovevano aver prodotto un profondo effetto sul povero condannato infatti l'indomani papacatrame non comparve sul ponte e quando fu sera non lasciò la cala lo si mandò a chiamare dieci volte di seguito ma fu inflessibile all'undicesima tirò dietro al camerotto tutte e due le scarpe e alla dodicesima scagliò alle gambe d'un timoniere che era sceso per persuaderlo a salire tutta la sua batteria di bottiglie vuote intendiamoci il capitano lo lasciò fare gli mandò anzi due fiaschi del vino suo più gradito che il vecchio orso accolse con un brontolio di contentezza e che vuotò subito poiché mezz'ora dopo lo udimmo russare con tal fracasso da destare l'eco nella stiva il secondo giorno però o meglio la seconda sera il mastro riconoscente alla cortesia del nostro allegro capitano salì in coperta pareva contento aveva un sorrisetto misterioso sulle labbra e lanciava sul capitano degli sguardi maliziosi che in quelle ventiquattro ore di riposo avesse scavato nei suoi vecchi ricordi qualche fatto da imbarazzare il suo eterno contraddittore io lo sospettai vedendolo così di buon umore mentre tutti credevano che fosse imbronciato quando ci vide attorno al suo barile il suo sorriso misterioso divenne più marcato e nei suoi occhietti grigi brillò un lampo restano ancora due sere per espiare la mia pena cominciò egli ho narrato dei fatti a me succeduti e mi avete riso sulla faccia come se vi narrassi delle frottole inventate nell'oscurità della cala ho citato nomi e autori e voi avete voluto sfatarli ho creduto di divertirvi e invece mi avete trattato come un buffone di qualche tirannello africano o peggio ritorno quindi alle storie lugubri e paurose quelle almeno sono certo che non le spiegherece e chi non vuole udirmi vada a dormire ma avete capito se papà catrame spera di vederci andare a dormire per risparmiare il resto della sua pena si inganna disse il capitano io rimango e aspetto l'undicesima novella anche noi esclamarono in coro i marinai che non avrebbero lasciati i loro posti nemmeno per dieci boccali del miglior vino papà catrame fece un gesto dispettoso ma dovette rassegnarsi poiché nessuno si muoveva storie allegre o tristi doveva narrarle tutte sta bene disse segli coi denti stretti ma forse vi pentirete la novella di stasera si intitola la nave feretro sul mare ardente che storia è mai questa esclamò il capitano tu vuoi proprio spaventare i mozzi tanto meglio rispose il mastro ruvidamente a chi non accomoda il titolo vada a dormire con tuo permesso rimarremmo tutti qui vecchio brontolone papà catrame scrollò le spalle si raccolse per alcuni istanti poi cominciò vi narrerò un'avventura assai bizzarra forse la più strana che mi sia mai toccata in tanti anni di navigazione e che non fui capace di spiegare mai quantunque mi sia torturato il cervello non so quante volte voglio vedere se il nostro capitano è capace di fare un po' di luce su questo tenebroso fatto speriamolo papà mio disse il capitano vada però che sia una storia vera è toccata a me e questo può bastarvi per credere all'esattezza dell'avventura ditemi innanzitutto avete mai udito parlare della nave feretro si dice e non da ora ma da molti moltissimi anni che di quando in quando si incontra un vascello tutto nero che veleggia da solo senza aver bisogno di un equipaggio che lo manovri e lo guidi che porta con sé un carico completo di feretri le leggende di molti popoli non solo europei ma anche di altri continenti dicono che quel vascello fantasma racchiude le salme di marinai morti durante le tempeste o quelle dei più valenti guerrieri spenti battendo sul mare per sante cause o ai cadaveri di quegli audaci scorazzatori del mare che si chiamano normanni tutti i resti di persone affidate all'oceano da secoli e secoli e riunite sulla nera nave cosa ci sia di vero in tutto ciò io lo ignoro ma che la nave feretro esista è vero poiché io l'ho incontrata e l'ho veduta coi miei occhi tu esclamò il capitano con tono incredulo io signore rispose il mastro con voce solenne io odiamo adunque questa bizzarra avventura rispose il capitano se è vera non so come potrò spiegarla non la spiegherete signore ve l'assicura rispose il mastro mi ero arruolato su di un brigantino messicano che faceva il traffico con la cina ed il giappone attraversando tre o quattro volte all'anno l'oceano pacifico settentrionale avevamo lasciato il porto di kayao sul finire della primavera se ben ricordo diretti al giappone dove contavamo di fare un grosso carico di seta per le bellezze americane il buon vento che in quella stagione spira quasi sempre in favore delle navi che vanno dall'oriente verso l'occidente in 15 giorni ci aveva spinto fino al 220esimo parallelo senza che alcun avvenimento turvasse la calma che regnava a bordo quando un giorno pochi minuti prima che calasse il sole facemmo una strana scoperta mentre stavamo terminando la nostra cena un gabbiere che si trovava sulla coffa di maestra occupato a fare un legaccio a un boscello ci segnalò un bastimento che navigava parallelamente a noi a una distanza di quattro miglia non era una cosa straordinaria di certo quantunque in quella porzione d'oceano sia abbastanza raro un tale incontro essendosi però il giorno precedente manifestato un guasto nella nostra bussola il capitano volle approfittare di quella occasione per chiedere alla nave segnalata la giusta rotta e diresse il brigantino verso il nord mezz'ora dopo noi eravamo ad un miglio dal vascello sicché potemmo osservarlo a nostro agio la sua andatura la sua immersione e la disposizione delle sue vele attrassero la nostra attenzione era un grande veliero tutto dipinto di nero coi suoi tre alberi carichi di tela ma coi pennoni orientati gli uni sotto vento e gli altri sopravvento senza regola ed era così immerso che l'acqua giungeva fino agli ombrinali ma cosa ancora più sorprendente non portava alcuna bandiera e né sul ponte di comando né sul cassero di poppa né sul castello di prua né in coperta si vedeva alcun marinaio e il nostro capitano ritenendo che gli uomini fossero sdraiati dietro alle murate di babordo o dietro alle imbarcazioni fece spiegare le bandiere dei segnali pregando quell'equipaggio invisibile di porsi in penna ma nessuno apparve converrete che la cosa era strana o l'equipaggio si era ubriacato e dormiva della grossa o quella nave era stata abbandonata per qualche motivo eppure senza bisogno di braccia continuava a navigare filando più di noi sparammo un colpo di spingarda ma non ottenemmo miglior frutto nessun uomo comparve nessuno ci rispose essendo calata in quel frattempo la notte la nave misteriosa scomparve nelle tenebre però qualche ora dopo e da lontano scoprimmo parecchie fiammelle che brillavano distintamente fra la profonda oscurità da che provenivano non riuscimmo a saperlo non essendovi però alcuna terra in vista arguimmo che quei fuochi dovevano brillare sul vascello poco prima segnalato lascio immaginare a voi a quante chiacchiere diede luogo quel misterioso incontro alcuni dicevano che forse quella nave era montata da pirati i quali dovevano aver avuto paura di noi altri che era il vascello fantasma dell'olandese maledetto altri ancora asserivano invece e con tutta serietà che doveva essere la nave feretro anzi aggiungevano che appunto in quella porzione dell'oceano pacifico era stata incontrata pochi anni prima da un capitano di accapulco tutta la notte vegliamo attentamente in coperta temendo che il triste legno da un istante all'altro ci investisse o ci facesse qualche brutto gioco ma nulla parve sulla fosca linea dell'orizzonte soltanto un gabbiere assicurò di aver veduto ancora fra le undici e la mezzanotte brillare quelle fiammelle che ci avevano tanto spaventati finalmente l'alba così ansiosamente attesa spuntò e l'oceano apparve completamente libero la nave incontrata la sera precedente era scomparsa trascorsero tre giorni durante i quali essa più non riapparve benché l'equipaggio intero vegliasse attentamente e per turno ed un uomo si tenesse sulla crocetta di maestra munito d'un potente cannocchiale cominciavamo già a rassicurarci quando al tramonto del quarto giorno il nostro timoniere gridò nave sotto vento salimmo tutti in coperta e distinguemmo infatti verso il nord un tre alberi di dimensioni non comuni ma la distanza era tale da non permetterci di osservarlo minutamente un gabbiere si so sulla crocetta e puntò un cannocchiale in quella direzione è la nave ferretro esclamò mettete la prua al nord e si spieghino i coltellacci e gli scopamari comandò il nostro capitano voglio vedere chiaro in questa misteriosa avventura quantunque fossimo tutti impressionati anzi se devo dire esattamente la verità vivamente spaventati temendo quell'incontro obbedimmo e il nostro brigantino filò come una rondine marina verso il nord alla caccia del vascello fantasma la nostra velocità cresceva di minuto in minuto ma anche quella del vascello inseguito che forse era meglio costruito e che portava più vele di noi era rapida poiché la distanza non scemava che lentamente anche quella volta giungemmo a un miglio di distanza indi le tenebre calarono e non riuscimmo più a distinguere nulla però avevamo avuto tempo di osservare che il ponte della nave era sempre deserto che la sua immersione si manteneva come prima e che i suoi pennoni non avevano subito alcun cambiamento quantunque il vento avesse preso diversa direzione cercammo tutta la notte ora dirigendoci verso il nord ora verso l'ovest ma senza risultato nemmeno le fiamme apparvero cosicché non potendo proseguire in modo alcuno fummo costretti ad abbandonare le nostre ricerche con grande rincrescimento del capitano che contava di fare una grossa preda già che quella nave sembrava abbandonata dal suo equipaggio noi però eravamo convinti che fosse la nave feretro ed infatti non dovevamo tardare ad averne la prova la sesta sera nulla apparve nel momento in cui il sole tramontava ma più tardi accadde un avvenimento straordinario che spaventò tutti eccetto il capitano erano le undici il nostro brigantino navigava con la velocità ridotta essendo il vento alquanto forte e con la prua sempre verso l'ovest quando scorgemmo tutto ad un tratto ad una grande distanza un vivo chiarore si sarebbe detto che il mare era in fiamme o che sotto le onde splendeva un altro sole o che avvampava un vulcano si vedevano guizzare in tutte le direzioni lingue rosse azzurre o verdastre con le selvagge contrazioni dei serpenti balzavano per ogni dove fasci di scintille ogni volta che le onde fosforescenti surtavano e sotto a quella specie di distesa di bronzo liquefatto si distinguevano dei ribollimenti strani che parevano prodotti da legioni di mostri contorcentici cos'era il capitano diceva che era una fosforescenza marina ad un chiarore ammirabile prodotta da massi enormi di certi pesci o da miriadi di uova ma nessuno di noi gli credeva quantunque non ignorassimo che anche gli scienziati hanno dato tale spiegazione di si fatto fenomeno ci dirigemmo a quella volta e giunti sull'estremo lembo di quel mare ardente o fosforescente che fosse vedemmo ferma proprio nel mezzo una massa nera che spiccava nettamente su quel fondo scintillante la riconoscemmo di colpo la nave feretro gridammo tutti finalmente esclamò il nostro capitano avanti invece di obbedire il timoniere lasciò la ribolla e i gabbieri abbandonarono i bracci delle manovre dichiarando formalmente che nessuno lo avrebbe seguito per bacco non avevamo alcuna intenzione di andarci a impacciare col vascello dei morti e fummo ben contenti di rimanere a bordo vedendoci risoluti e decisi a ribellarci se avesse insistito il nostro capitano fece calare una scialuppa in mare e discese solo dicendoci aspettatemi qui adunque la preda sarà tutta mia afferrò i remi e con un coraggio ammirabile entrò nel mare fosforescente dirigendosi verso la nave misteriosa arrancava con sovrumana energia facendo volare sotto i colpi di remo sprazzi di scintille e teneva gli occhi costantemente fissi soltre alberi che era perfettamente immobile quantunque avesse sempre le vele sciolte e il vento soffiasse ancora di mano in mano che la scialuppa si allontanava invece di sembrare più piccola sia che un fenomeno d'ottica ovvero il terrore ci falsasse la vista pareva assumere proporzioni gigantesche e che il nostro capitano diventasse sempre più grande finalmente lo vedemmo raggiungere la nave deporre i remi e balzare sopra le murate che erano a fior d'acqua quasi nel medesimo istante come se quello fosse stato un segnale la luce intensa che si stendeva sotto le onde si spense bruscamente e tutto divenne oscuro come il fondo di un barile di catrame il nostro terrore accrebbe smisuratamente quando in mezzo al profondo silenzio che regnava fra le tenebre ci giunse agli orecchi un grido acuto che veniva dall'arco come un grido d'orrore l'aveva emesso il nostro capitano o qualche altro essere umano attendemmo col cuore stretto dall'angoscia ma non udimmo più nulla né vedemmo ritornare la scialuppa passarono due tre quattro ore e il nostro comandante non riapparve il terrore cresceva a bordo di momento in momento e nessuno ardiva a slanciarsi verso la nave misteriosa eravamo istupiditi dallo spavento verso le quattro udimmo improvvisamente a prua un urto facendoci coraggio uno con l'altro salimmo sul castello e scorgemmo la scialuppa del capitano che le onde o qualche corrente marina o il flusso avevano ricondotta verso di noi gettammo una corda munita ad un uncino e la rimorchiamo fin sotto la scala solo allora ci accorgemmo che dentro vi giaceva il nostro capitano lo portammo a bordo non dava quasi più segno di vita era bianco come un cencio lavato bagnato di freddo sudore e i capelli gli erano incanutiti tutti abbandonammo subito quei paraggi funesti temendo che una grave sciagura accogliesse anche noi al nostro povero capitano vennero prodigate le più affettuose cure ma non rimvenne che il giorno seguente le prime parole che pronunciò furono queste i feretri quanti feretri poi fu subito assalito da un delirio furioso durante il quale non faceva altro che parlare di morti e di sepolture dai suoi discorsi riuscimmo a capire che quella nave era piena di casse contenenti centinaia di morti non vi era più dubbio avevamo incontrato la nave feretro il delirio del nostro capitano non cessò più il disgraziato era diventato pazzo furioso morì tre giorni dopo il nostro arrivo al giappone e le sue ultime parole furono i feretri i feretri o le orribili code ora quel coraggioso capitano vittima della propria audacia riposa nel piccolo cimitero europeo di yokohama pace alla sua salma papacatramme tacque per alcuni istanti poi guardando il nostro comandante gli chiese a bruciapelo cosa ne dite voi il capitano invece di rispondere si alzò prese papacatramme per un braccio lo fece sedere fra l'auditorio e accomodatosi sul barile reclamò con un gesto il silenzio di tutti noi sorpresi per quella novità e curiosi di sapere cosa stava per succedere aprimmo ben bene gli occhi tenendoli fissi su di lui anche il vecchio mastro era sorpreso ed era diventato un po inquieto dovete sapere miei lupicini cominciò il nostro capitano che esiste un popolo industriosissimo d'una frugalità senza pari d'un'avarizia incredibile il quale ha una tendenza assai accentuata per l'emigrazione la terra che gli occupa è d'una fertilità prodigiosa le sue ricchezze minerali sono incredibili l'industria occupa milioni di braccia ma non basta per mantenere tutto quel popolo che è il più numeroso dell'asia poiché la sua cifra scende a circa 450 milioni adunque una parte di quel popolo è costretta ad emigrare sebbene la sua emigrazione non sia di lunga durata lascia la patria momentaneamente invade le contrade più ricche del globo si adatta a tutti i lavori dai più lucrosi a quelli più meschini mangia quel tanto che basta per tenersi in piedi accumula soldo su soldo e un bel giorno ritorna all'ombra delle sue pagode a scaglie di ramarro dei suoi tetti di porcellana delle sue splendide torri a nove piani con le più ardite arcate muoiono alcuni di quegli emigrati in terra straniera non importa la loro salma riposerà ugualmente sulla terra della patria e i bonzi del suo villaggio o della città andranno ugualmente a pregare sulla sua fossa questo popolo voi l'avrete indovinato già è il cinese alcuni anni or sono i figli del celeste impero avevano fissato gli sguardi sulle coste americane bagnate dalle onde dell'oceano pacifico la notizia della favolosa scoperta dell'oro nella nuova california aveva attraversato l'oceano ed ecco salpare a migliaia e migliaia i codati figli del celeste impero avidi di approdare anch'essi a quella preziosa regione bastarono pochi anni anzi pochi mesi si può dire perché tutte le coste fossero infestate da quegli emigrati il piccolo commercio cadde in gran parte nelle loro mani invasero tutti i posti disponibili cacciarono i braccianti e gli artieri facendo loro una guerra canita a colpi di ribasso sulle mercedi e le loro colonie in breve divennero numerose e fiorenti ma il clima nuovo le privazioni che si imponevano per accumulare rapidamente grandi ricchezze le fatiche o altro facevano dei grandi vuoti fra quella popolazione di emigrati e moltissimi non ritornarono più in patria a godere i risparmi e a riposare sul suolo natio e il morire all'estero rincresceva assai ai gialli figli del celeste impero gli intraprendenti americani fiutarono un buon affare ed una società si costituì in breve offrendo agli emigrati cinesi di trasportare in patria le salme dei loro compatrioti ecco comparire adunque le navi feretro logubri vascelli che salpavano con un carico completo di morti con un processo speciale si impediva al morto di infracidire subito lo si rinchiudeva in un feretro lo si portava a bordo e dopo cinque o sei settimane lo si sbarcava nei porti del celeste impero e i parenti lo tumulavano nella terra natia queste navi esistono ancora salpano ogni mese da san francisco di california o da monterei e i soci della compagnia fanno splendidi guadagni alle spalle dei poveri morti cosa ne penserete ora dell'incontro fatto da mastro catrame che era una nave piena di cinesi morti portati in patria risposero i marinai ridendo come pazzi mentre il viso di papà catrame si allungava a vista d'occhio è proprio così vecchio mastro disse il capitano la nave dei morti che hai veduto non era altro che una nave feretro americana che trasportava verso la cina un carico di defunti ignoro i motivi che avevano costretto l'equipaggio americano ad abbandonarla ma forse si era aperta improvvisamente una falla che poi si richiuse forse per qualche feretro incastratosi nell'apertura o per altra cagione avendo ancora le vele sciolte poté continuare a navigare finché trovò un ostacolo forse un banco sottomarino che l'arrestò se il tuo capitano non avesse ignorato l'esistenza delle navi feretro della compagnia americana non sarebbe diventato pazzo per lo spavento e forse a quest'ora sarebbe ancora vivo e occupato a vuotare un buon mezzo fiasco di mescal in qualche ottima posada di acapulco si alzò e battendo una mano sulle spalle del mastro che era diventato pensieroso hai compreso disse vada papà catrame di non sognare la nave feretro e i suoi morti ci allontanammo chi per montare il quarto di guardia e chi per recarsi a dormire ma il mastro rimase seduto al suo posto immerso in profondi pensieri ecco di